Buongiorno, amiche poltogno, di quicini oggi le stiamo in bicicletta, o scopo, perché per l'estate prossimo voi dovete avere un fisico come il mio, come il mio, per il fatto di statuaio, senza quella cosa che voi donne vogliate tanto, ma ognuno anche l'uomo di quella cosa che sappiamo che conosciamo con le mani, se la fuci, 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 meno delle aspettate, le museali, le artrici, tutti hanno luci del racchi. E come si sconfiggi con tant' spott, amiche, con tanto spott e dieta, mangiare poco, mangiare spiene, mangiare putta, mangiare futura e poi la cicla, amiche sono spittime, boi sono chiesto, un sacco e poi metterci l'osso lenti davanti a chi è l'osso e quando ti ha dato nessun popolo non mi piace tutto tipo ah, non ti voglio mettere tutti io davanti mi faccio il camioncio pesciallo, pesciallo, pesciallo e via, non scorni, non scorni e poi, adesso le grandi come le mie non vuole essere le grandi come le mie allora pesciate, pesci, pesci e quindi infatti, per il più di là tu fai il primo piano vieni, fai il primo piano andrei e infatti pratica voi devi fatica sul mio volto vedete fatica sul mio volto non c'è fatica sul mio volto perchè questo per me è una cosa bellissima fare sport Grazie a tutti.